Facci un serpente e mettilo sopra un'asta, chiunque sarà stato vostro lo guarirà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di proso e lo mise sopra l'asta. Sarà la tua volontà, con il cielo si verrà, nasci oggi il nostro pane. Salute. Salute. Oggi è un grande giorno speciale per te e tutti i familiari e amici. Ringraziamo il Signore per questo dono che ti ha fatto e oggi ci uniamo attorno alla menza del Signore per ringraziare e ti provare benedizione su benedizione. Per questo ti auguriamo il Signore che il tuo cuore spera in questo giorno di grazia. Gioriamo anche con te per il compreando della mamma che con te 79 anni e che ti ha dato il dono della tua vita. Amori Edo e non dimenticarti di capire Edo, il nuovo amore Edo. Dico solo due parole, non essere troppo lungo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Dordino per questa possibilità. Ma il primo grazie a Dio che mi ha permesso di avervi in modo particolare alla mia famiglia che sta qui davanti a voi in modo eccezionale. Sono ancora più convinto che i nostri parenti dal Cielo stanno facendo feste insieme a noi perché attraverso la croce che può dare dolori ci dà la cosa più grande, la fede, la fede, coronata alla croce, ci rafforza e ci avvicina a Cristo. Grazie a voi, ma non particolare ancora più i miei zii, 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 i miei zii. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.